Il venerdì santo è il giorno dedicato alla passione del Signore in attesa della risurrezione. Noi vogliamo vivere questa prima parte di giornata attraverso le parole del Commissario Generale di Terra Santa, recandoci idealmente appunto nella terra di Gesù e per questo motivo do il benvenuto a Frasergio Galdi d'Aragona, Commissario Generale di Terra Santa. Pace e bene Frasergio, bentrovato e grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi per l'invito e per questa opportunità di potermi rivolgere a tutti i vostri telespettatori parlando di un tema in questo particolare momento così sensibile che tocca il cuore di tutti noi. Ci stiamo preparando dunque alla Pasqua di risurrezione in questa giornata appunto di venerdì santo. Allora, Frasergio, partirei con una domanda di carattere generale, chiedendoti con quale spirito, specialmente quest'anno, la luce insomma dei fatti che tutti ben sappiamo e conosciamo, con quale spirito si vive questa giornata e quelle in preparazione alla Pasqua proprio nella terra di Gesù? In questo momento logicamente ci stiamo preparando alla Pasqua come frati di Terra Santa con una profonda tristezza nel cuore perché siamo consapevoli delle grandi difficoltà e della tragedia che le nostre comunità stanno vivendo. Noi dobbiamo ricordare che gli stessi nuclei familiari che noi curiamo, i cristiani, sono all'interno profondamente lacerati perché dobbiamo immaginare che addirittura ci sono all'interno delle stesse famiglie persone che combattono su fronti differenti. Dunque queste ferite che le nostre comunità stanno portando avranno bisogno di tanto tempo per poter essere sanate e per poter essere rimarginate. Realmente la Terra Santa oggi ci fa tanta anche tristezza vedere come i luoghi sono ancora vuoti e c'è timidamente una ripresa delle attività, ma comunque Gerusalemme è ancora una terra desolata ma logicamente noi non dobbiamo mai perdere la speranza, quella speranza cristiana della Pasqua, della Pasqua di risurrezione del Signore. Quindi in questo periodo certamente stiamo vivendo questo tempo con grande mestizia, anche con grande tristezza, consapevoli delle enormi difficoltà delle nostre comunità che stiamo continuamente accompagnando. Fra Sergio, come frati della custodia di Terra Santa è vostro compito secondo il mandato della Santa Sede prendervi cura dei luoghi santi, appunto dimorarvi, farne luoghi di preghiera, essere accoglienti verso i fedeli locali e quelli che vi giungono, purtroppo come abbiamo ascoltato anche dalle tue parole la situazione internazionale non permette pellegrinaggi di un certo tipo, comunque come il passato e ancora mettere in campo opere educative come le scuole, opere sociali, opere di promozione umana attraverso anche la creazione di posti di lavoro. Questo è un argomento che è legato a stretto filo anche con il tema dei pellegrinaggi. Allora, cosa è cambiato dopo quel fatidico 7 ottobre 2023? È cambiato tutto radicalmente perché in effetti noi dobbiamo pensare che la popolazione araba locale si mantiene attraverso due indotti. Il primo indotto è quello dei pellegrinaggi e quindi del turismo religioso che è totalmente fermo, aveva già avuto un'enorme battuta d'arresto con il Covid ci stavamo riprendendo in questo ultimo anno quando poi ci sono stati gli eventi del 7 ottobre. Ed il secondo indotto che sostiene la comunità araba locale è quello di lavorare in Israele. Dopo il 7 ottobre con il totale blocco, la chiusura di tutta l'area della West Bank e gli arabi non possono andare a lavorare in Israele. Quindi a tutto questo, questo sta provocando un'enorme crisi economica. E tra l'altro, poiché avevi citato proprio tutto quanto diciamo il capitolo degli stipendi, noi pensate che abbiamo oltre 2000 dipendenti per tutte le opere della custodia di Terra Santa, dei francescani in Terra Santa e tutti quanti i dipendenti che sono all'interno delle aree palestinesi che non possono venire a lavorare. Noi per poterli sostenere, continuare a sostenerli, abbiamo comunque eroghiamo, continuiamo ad erogare loro il 50% dello stipendio mensile, pur se non vengono al lavoro, ma questo poiché noi non abbiamo più delle entrate in questo tempo e sono oramai già moltissimi mesi, vi renderete conto anche della difficoltà che stiamo attraversando. Quindi la situazione per la comunità locale è realmente drammatica. Prima tu citavi tutte le opere che noi stiamo, in effetti promuoviamo in Terra Santa. Noi abbiamo delle opere rivolte ai pellegrini, in particolare quindi con la cura dei santuari. Poi abbiamo tutte quante le opere sociali rivolte alla comunità locale, e quindi con tutte quante le scuole, case per anziani, tutto quanto un progetto case che noi sosteniamo, le giovani coppie che si sposano, facciamo di tutto per trattenere questa piccola comunità locale che oramai siamo soltanto l'1,5% della popolazione come cristiani, tutti insieme, insieme anche agli ortodossi e tutte le altre chiese. Quindi realmente siamo un piccolo greggio. E noi poi tutte queste opere, in tutti i luoghi dove siamo presenti, Israele, Palestina, Siria, Libano, Giordania, Rodi, Cipro, ecco noi lo facciamo grazie alla generosità dei credenti e appunto di tutto il mondo. Fra Sergio parleremo tra qualche istante della colletta per la Terra Santa che si tiene ogni anno il Venerdì Santo. Tu ci hai per certi versi tratteggiato una situazione drammatica, toglierei anche per certi versi, ma è sicuramente così. Dunque un tema che si sposa appieno con quello che stiamo vivendo in questo Venerdì Santo, appunto una giornata della croce, giornata della sofferenza. Però io vorrei anche provare ad intravedere un piccolo segno di speranza, se sei d'accordo, perché comunque la vostra opera, l'opera dei Francescani di Terra Santa, al di là dal punto di vista sociale, ci hai citato la questione degli stipendi, dal punto di vista pastorale, è impegnata in primissima linea per alleviare le sofferenze tremende che la popolazione sta vivendo. Sì, certamente. Poi dobbiamo continuare a ricordare e non dimenticare la Siria, che è stata martoriata da oltre 13 anni di guerra, dove noi siamo sempre presenti con tutte le nostre realtà, particolarmente anche le opere sociali. Abbiamo mense per i poveri, che offrono oltre 1500 pasti al giorno, pensate. E abbiamo ancora, e questo è bene che noi lo ricordiamo, una zona della Siria, il dipartimento di Idlib, che è ancora sotto il controllo di cellule legate all'ISIS, ad Al-Qaeda, dove noi abbiamo ancora delle piccole comunità cristiane che stiamo continuando a servire e che noi non abbandoneremo mai. e dove realmente, come potete immaginare, la situazione è particolarmente difficile. E allora, Fra Sergio, dicevamo della colletta per la Terra Santa. Come nasce questa iniziativa, che è un'iniziativa che va avanti ormai da secoli, potrei dire? E quali sono i fini della colletta che si tiene annualmente ogni venerdì santo? Sì, beh, la colletta abbi memorabili fu voluta dai papi di Roma e quindi sempre si è tenuta nel corso dei secoli. Però un grande impulso alla colletta fu data da Papa Paolo VI in quanto dopo il viaggio che aveva fatto, il pellegrinaggio che fece nel 64, nei luoghi santi, si rese conto realmente dell'opera meritoria che i francescani facevano e dunque volle particolarmente sostenerla e dare un maggiore impulso alla colletta con l'esortazione apostolica nobis in animo. E quindi, in effetti, questa è una colletta obbligatoria per i luoghi santi che richiede la Santa Sede, che il Santo Padre richiede e anche Papa Francesco più volte ha sostenuto e richiamato l'attenzione di tutti i credenti, di tutto il popolo di Dio sulla colletta del Venerdì Santo. E noi, per mezzo della colletta del Venerdì Santo, che appunto, come dicevo, è orientata sia a delle opere volte ai pellegrinaggi, ai pellegrini, la manutenzione dei santuari, perché noi come primo mandato custodiamo per la Chiesa Cattolica i luoghi dell'incarnazione e della redenzione, quindi i santuari. Ma poi a questo ci prendiamo cura di quelle che noi chiamiamo le pietre vive della Terra Santa, del Medio Oriente, che sono le nostre comunità cristiane, quindi con tutto quanto le opere pastorali che noi svolgiamo. E quindi poi c'è tutta quanta questa opera costantemente ed incessante, che in questo particolare momento certamente è in particolare sofferenza, ecco, in questo senso. E dunque, realmente il Venerdì Santo, ma in tante aree geografiche del mondo, la raccolta viene anche differita in altri momenti, quando ci può essere anche una maggiore affluenza di popolo di Dio nelle Chiese. Ad esempio in alcune diocesi qui del sud Italia, i Vescovi hanno chiesto di anticipare la colletta, vista la difficoltà del momento, di anticipare la colletta anche al Giovedì Santo, quando comunque nelle Chiese appunto c'è una maggiore affluenza di persone, proprio perché ci si rende conto della drammaticità del momento. Noi con la colletta, come dicevo, copriamo circa la metà delle nostre uscite annue e l'altra metà noi l'abbiamo sempre coperta con i pellegrinaggi, con il ricavato dei pellegrinaggi, con il ricavato delle offerte liberali delle persone. E oggi che i pellegrinaggi sono praticamente fermi, noi veniamo a mancare di uno degli introiti principali, ecco, per la custodia di Terra Santa. E quindi quest'anno potremmo dire l'infa vitale, assolutamente. Per chiudere allora, Fra Sergio, qual è il messaggio che viene dalla Pasqua annuale che tra poche ore celebreremo? Beh, anche se al momento la situazione sembra particolarmente drammatica in Terra Santa, anche per le notizie che arrivano, per la situazione di Rafa, e speriamo che non ci sia nessun incidente e bombardamento. E dobbiamo considerare questo tempo realmente come un tempo di purificazione. E dobbiamo ricordare che una delle rappresentazioni ideali dell'Evangelista Giovanni della Croce è quella della Scala di Giacobbe. La Scala di Giacobbe è dunque come dalla croce strumento per arrivare a Dio. Non ci può essere mistica senza la croce. E allora dopo questo Venerdì Santo certamente saremo in grado poi di poter vivere la bellezza e la gioia della resurrezione del Signore. Si diceva appunto Per aspera, ad astra, per crucem, ad lucem. Ecco, non si può giungere alla luce senza attraversare la croce. E allora speriamo che questo tempo di purificazione per noi possa passare nel più breve tempo possibile per poter poi continuare a vivere con la popolazione locale la gioia della resurrezione. Fra Sergio, io ti ringrazio di cuore davvero per essere stato con noi in questo Venerdì Santo e continuiamo la nostra opera di vicinanza anche alla Terra Santa parlandone anche di tanti, anche dei tanti frutti positivi che attraverso la vostra opera e dalla Terra di Gesù continuano ad espandersi potremmo dire in tutta la Chiesa. Grazie di cuore, buona Pasqua. Grazie a voi, buona celebrazione del Venerdì Santo e buona Pasqua. Grazie ancora, restituiamo la linea alla regia.